... Mmm, che buon odore di caffè! Amore, tu sei che sai come prendermi! Ma lo sai che a forza di camminare mi è venuta fame? È un certo longorino anche io! Aspetta, ma lo senti anche tu? Questo odore? Signora, che buon profumino! Ma cosa sta cucinando di così buono? No, non sono io! È l'avvocato dei pescatori! Amore, questa volta so io come prenderti! Grazie! 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 Grazie!